Ben ritrovati amici telespettatori per la seconda volta nel giro di pochi giorni a distanza praticamente di una settimana. Tegli obiettivo vuole nuovamente mettere a fuoco la personalità ma soprattutto la spiritualità di una grande donna. Esattamente una settimana fa davamo l'annuncio della morte della dottoressa Wanda Poltavska, stretta collaboratrice nonché amica, proprio amica possiamo dire, di Giovanni Paolo II, per farvi capire il livello di amicizia nello scriversi. Lui la chiamava sorella, lei lo chiamava fratello. Ma poi legata alla nostra realtà, legata a San Giovanni Rotondo, legata a Padre Pio, da un miracolo. Un miracolo che all'epoca il vescovo capitolare di Cracovia, Karol Uitiwa, chiese al Signore attraverso l'intercessione di Padre Pio. E questo miracolo poi avvenne. Ora, torniamo sull'argomento perché i funerali della dottoressa Poltavska che si sono svolti il 31 ottobre scorso, come avevamo preannunciato, si sono rivelati un vero e proprio tripudio. Funerali di Stato, chiesa gremita e, dobbiamo dire, anche dai discorsi e dall'omelia, traspare veramente la grandezza di questa donna. E' con noi in studio per aiutarci nel raccontare quello che abbiamo commentato insieme in diretta, perché abbiamo trasmesso in diretta i funerali della dottoressa, fra Roma e Rusek, che è un frate minore cappuccino, che si occupa dei gruppi di preghiera della Polonia, ma che da un anno è qui a San Giovanni Rotondo per l'accoglienza e l'accompagnamento dei pellegrinaggi polacchi che vengono a San Giovanni Rotondo, che vengono a pregare dinanzi al corpo di Padre Pio. Vogliamo partire in questo nostro teleobiettivo da una fotografia, la fotografia del luogo in cui si sono svolti i funerali. Si tratta della Basilica di Santa Maria che si trova in Piazza Mercato. C'è una foto particolare, una foto aerea, tratta proprio dalla diretta, che ci dà l'idea. Vediamo la Basilica sulla sinistra e più avanti Piazza Mercato. E' significativo far vedere questa foto perché, fra Roman, dobbiamo capire e far capire ai nostri telespettatori che la casa della dottoressa Poltavska era a pochi metri, a poche decine di metri da questa chiesa. Esatto, pace bene a tutti. La casa di signora Vanda Potasca, dove sono stato spesso presente, si trova proprio accanto. Cioè sono, non so, 20 metri dalla Basilica Mariazca, Santa Maria Maggiore, possiamo dire, a Cracovia. E là vedeva tutto, mercato, tutta la chiesa si vede, campanile, eccetera. Proprio la finestra del suo studio era orientata, proprio si affacciava su Piazza Mercato, con la visuale, diciamo, potremmo dire quasi opposta a quella della fotografia. Quindi lei poteva vedere comunque il mercato e poteva vedere anche questa basilica, nella quale due anni fa abbiamo ringraziato il Signore per il compimento di 100 anni e nella quale, alcuni giorni fa, insomma, il 31 ottobre scorso, sono stati celebrati i funerali. Funerali che sono stati presieduti dall'arcivescovo emerito di Cracovia, il cardinale Stanislaw Zivic, già segretario particolare, prima dell'arcivescovo di Cracovia, Karo Uetiwa, poi, del Santo Padre di Papa Giovanni Paolo II. E vogliamo vedere un passaggio, anzi un montaggio di alcuni stralci di questa omelia, nei quali il cardinale Zivic ha descritto un po' la vita e la personalità della dottoressa. Lo sentiremo l'omelia con la traduzione che in diretta durante la celebrazione che abbiamo trasmesso, Fra Roman ha fatto di questo significativo discorso del cardinale. Ascoltiamo. Guardando la bara con le spolie mortali della defunta Signora Vanda, che riposa oggi nella Basilica di Santa Maria, ci rendiamo conto che il libro della sua lunga vita è stata irrevocabilmente chiusa pochi giorni fa, nella notte tra 24 e 25 ottobre. Cosa c'è in questo splendido libro? Cosa dice questo libro? Resterà un mistero del cuore della defunta, ma soprattutto il contenuto del libro della sua vita è scritto nel cuore di Dio. Noi dobbiamo oggi dire chi era Signora Vanda e chi rimarrà per tutti noi. La professoressa ha tenuto molte lezioni e conferenze per osso vari aeropaghi contemporanei. Ci ha lasciato molti testi e testimonianze che trattano sempre temi importanti dell'uomo, del matrimonio, della famiglia, dell'amore umano, ma oggi è soprattutto la sua vita a farci da lezione. La defunta Vanda non viveva solo di scienza e teoria. Insieme a suo marito, il defunto Andrzej Poutavski, un noto filosofo, fondarono una famiglia cristiana e Dio benedisse la loro unione d'amore con le prole di quattro figlie. La signora Vanda giurava, aiutava le persone, condividuava la sua saggezza, consigliava i sacerdoti, compresi i seminaristi, che si preparavano al sacerdotio. era ferma, diceva direttamente quello che pensava e quello che pensava fosse giusto. Era mostra dallo zero per le cose di Dio e degli uomini. un capitolo a parte nella vita di Vanda Poutavska è stato il suo legame spirituale e la mitizia con un sacerdote poi vescovo e cardinale metropolita di Krakowia Karol Wojtyła. Questo pastore, grande sacerdote, intelligente e sensibile, comprendeva i dilemmi di un ex prigioniero di un campo di sterminio che si era avvicinato a un male sconfinato e un sistema di odio verso uomo. da questa esperienza e comprensione reciproca è nato un grande bene per la Chiesa e per la società. La signora Vanda ha sostenuto le iniziative pastorali del vescovo e cardinale Wojtyła. Insieme hanno gettato le basi per la consulenza familiare nelle parocchie in cui sono stati i pionieri. A quel tempo la curia di Krakowia si arricchì di una nuova facoltà pastorale familiare. scrivendo il suo primo e più famoso libro dal significativo titolo Amore e responsabilità nato da riflessioni, conferenze e vivaci contatti con i giovani, il vescovo Karol Wojtyła si è avvalso dalla saggezza e esperienza di Vanda Pultavska. Giovanni Paolo II mantenne la sua amicizia con signora Vanda e suo marito Andrzej. Sono stati ospiti in Vaticano e a Castel Gandolfo. Entrambi divennero membri del nuovo Pontificio Consiglio per la Famiglia, creato nei primi anni del Pontificato Giovanni Paolo II e poi la signora Vanda divenne membro della Pontificia Accademia per la Vita, collaborando anche con il Pontificio Consiglio per gli operai sanitari. Possiamo quindi dire che la sua singolare esperienza ha portato frutto in un campo più vasto per il bene della Chiesa universale. con la giustizia del suo gesto. Ecco, queste le parole pronunciate dal Cardinale Zivic durante l'omelia della messa per i funerali della dottoressa Pultavska, ma a questa celebrazione era presente e ha tenuto un non breve discorso anche il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrea Duda, e tra l'altro soltanto lui fra i vari interventi ha fatto un riferimento al rapporto stretto fra la dottoressa Poltavska e Padre Pio. Vogliamo vedere le immagini e con l'aiuto di Fra Roman cerchiamo di ricostruire quello che ha detto il Presidente della Repubblica. Ecco, lo Presidente ha detto così. Penso che anche Dio si sia accorto di lei non ho dubbio al riguardo non solo perché l'ha portata in vita attraverso l'inferno degli interrogatori a Ravensbrick ma anche perché ha vinto in lei il cancro che ha colpito lei come madre e la sua moglie quando si prendeva cura dei suoi figli servendo gli altri ha aggiunto. Come e gli disse per lei fu compiuto il miracolo della guarigione per intercessione di San Giovanni Paolo II ma soprattutto Santo Padre Pio al quale Carol Voiteua scrisse una lettera chiedendo aiuto. Come sapete e ricordate inizialmente non credeva alla sua guarigione miracolosa credeva che i suoi colleghi medici avessero commesso un errore nella diagnosi e che in realtà probabilmente il cancro non esisteva. Si rese conto che il miracolo era avvenuto solo quando l'ha incontrata di persona con Padre Pio ha detto il Presidente. Ha ricordato che più tardi in un programma alla radio polaca Poltavska ha detto che come medico non le era mai venuto in mente che potesse essere guarita che potesse accadere un miracolo. Ecco questo è il passaggio che ci riguarda più da vicino ma il Presidente della Repubblica ha definito la dottoressa Poltavska una patriota e ha spiegato anche i motivi di questo di questa sua scelta di far celebrare i funerali come funerali di Stato che diciamo diventa il secondo riconoscimento da parte di un Presidente della Repubblica dopo quello avuto in passato della cosiddetta Aquila Bianca che è la più grande la più alta onorificenza polacca concessa appunto per meriti civili o militari dal Presidente della Repubblica ma restate con noi perché subito dopo la pubblicità parleremo ancora della dottoressa Poltavska con una singolare testimonianza di un sacerdote che è stato a trovarla pochi giorni prima della sua morte a fra poco riprendiamo a parlare della dottoressa Vanda Poltavska con una singolare testimonianza quella di un sacerdote il rettore del santuario di San Pio a Varsavia che è stato a casa sua qualche giorno prima una decina di giorni prima della morte della dottoressa che ha partecipato ai suoi funerali ma in questo spazio di tempo da quando è andata a trovarla per l'ultima volta a quando ha partecipato ai suoi funerali è stato qui a San Giovanni Rotondo e allora il nostro fran Roman ne ha approfittato per raccogliere la sua testimonianza perché era qui a San Giovanni Rotondo Don Andrea quando la dottoressa ha cessato il suo cammino terreno giusto? Sì e voleva proprio ringraziare padre Pio qui per la sua vita e voleva celebrare la messa qui a San Giovanni Rotondo perché per Wanda Boutowska padre Pio era veramente un amico un grande sacerdote e allora vediamo queste interviste e con l'aiuto di fran Roman ascolteremo la traduzione di quanto don Andrea ci ha rivelato e qui davanti noi è un prelato dalla Polonia da Varsavia Andrea Kuflikowski si chiama grande amico di Wanda Boutowska ha celebrato l'ultimo sabato proprio una settimana fa e adesso ci racconta che cosa è successo quali erano i quali erano ultimi giorni della sua vita e della sua amicizia con Wanda Boutowska perché questo don Andrea è rettore del santuario San Pio a Varsavia Wanda Boutowska conoscevo da ben 20 anni quando ho incominciato a costruire la chiesa a Varsavia dedicata a San Pio ricordo quando veniva spesso nella nostra giovane parrocchia per le conferenze e diversi incontri con il gruppo di preghiera padre Pio veniva anche alla scuola nella scuola per incontrare i giovani nel 2017 ha scritto signora Wanda il suo testamento nel quale ha deciso di donare alla nostra parrocchia di San Pio reliquie del santo le quali ha ricevuto a San Giovanni Rotondo erano reliquie del suo sangue nel fazzoletto alcune lette e immaginetti sottoscritte da padre Pio nostro vescovo diocesano sapendo di questo prezioso dono che ha ricevuto la parrocchia dopo appena due anni della storia della parrocchia decide di fare il nuovo santuario diocesano dedicato a San Pio come mio ringraziamento ho deciso ogni mese andare a Cracovia nella casa di Wanda a celebrare ogni mese la messa come ringraziamento per questo grande dono lei non voleva mai niente soltanto la preghiera con passare gli anni signora diventava sempre più debole nell'ultimo anno ha avuto i problemi con i polmoni e si recava spesso all'ospedale sabato scorso 21 ottobre sono arrivato da lei per celebrare la santa messa ho trovato ancora nelle buone condizioni signora Wanda che pur sapendo che Verro si è preparato per pregare con me prima della celebrazione della messa ho fatto una domanda se ha desiderio accogliere l'unzione dei malati Wanda ha risposto con serenità se lo farai sarò molto contenta dopo sacramento unzione dei malati ho celebrato la messa lei ha preso un quarto della ostia durante la comunione e poi durante la benedizione si è sforzato molto per arrivare la mano destra per fare il segno della croce perché sappiamo che era sua mano destra non poteva muovere da tanto tempo dopo la messa abbiamo come solito bevuto qualcosa io ho preso caffè e lei ha bevuto qualche goccia d'acqua e mi ha detto sai come grande dono è un po' di goccia d'acqua e sai a Ravensbrick ci mancava l'acqua e adesso come non posso bere a prezzo come un tal volta ogni goccia d'acqua è per me sempre preziosa poi mi ha detto miei figli sono contenti quando vieni da noi perché sei sacerdote gioioso e contento della sua vocazione è importante essere sacerdote gioioso perché vuol dire che sei contento che Dio ti ha scelto e il diavolo scappa quando vede un sacerdote gioioso hai ricevuto vita gratis ma la santità devi elaborare tu ripeto va spesso che bisogna leggere i scritti di Giovanni Paolo II perché è una ricchezza spirituale ancora da riscoprire e quando poi ho telefonato da lei ha risposto sempre anche quando era malata per me la mia domanda se posso venire a Cracovia rispondeva tu puoi venire sempre mia ultima telefonata era proprio 20 ottobre ho salutato lei e ho detto che arrivo domani a Cracovia perché con lei desidero celebrare mio compleanno vieni mio giovanotto ha detto mio giovanotto perché sei molto giovane riguardo me come era signora Vanda era donna coraggiosa è piena di sofferenza quando abbiamo parlato che i scandali nella chiesa fanno tanta distruzione lei rispondeva così voi sacerdoti perdete la fede nella forza del sacramento della riconciliazione guardate a padre Pio che stava nel confessionale tutta la giornata e la confessionale ha fatto la strada di conversione per i sacerdoti la strada al cielo è grande peccato che signora Vanda è scomparsa dice don Andrea ci mancherà molto la sua saggezza ma dobbiamo essere anche gioiosi perché è andata alla casa del padre è stata ricongiliata con Dio e così serena chiamando suo fratello Giovanni Paolo II con ultime parole Vanda è un simbolo il suo funerale sarà nella vigilia di tutti i santi perché era una santa per me ancora una cosa voglio aggiungere signora Vanda ha difeso la vita dal concepimento fino alla morte naturale perché ha sperimentato nel campo di concentramento di sprezzo della vita ha difeso per tutta la vita dignità della famiglia in questi mesi in Polonia abbiamo avuto beatificazione della famiglia Ulmuf che ha difeso la vita degli ebrei sono stati uccisi dai tedeschi abbiamo avuto beatificazione di Cardinal Stefan Veszynski il quale ha sempre lottato per dignità delle famiglie e adesso scomparsa un'altra grande persona che ha lottato per la vita e per le famiglie sicuramente è una santa il tempo purtroppo è volato grazie fra Roman per averci aiutato a rivivere il momento del funerale e a ricostruire la figura di Wanda Poltavska teleobiettivo torna fra sette giorni a rivistare a rivistare